Monta la preoccupazione a Palazzo Zanca per il nuovo intoppo all'approvazione del previsionale 2015. Nonostante l'ottimismo dell'assessore al bilancio Luca Eller che conta di riuscire a portare domani in commissione bilancio il documento finanziario, gli uffici comunali sono al lavoro da ieri per correggere le previsioni di spese in più. Il collegio dei revisori è però abbastanza scettico sulla possibilità di riuscire a mettere all'ordine del giorno già da domani il previsionale per farlo approvare dal lauree e garantire l'arrivo al comune dei fondi ministeriali. Quasi certo ormai che gli stipendi dei comunali non saranno pagati il 27, si punta a riuscire a dare un acconto grazie al gettito IRPEF ma tutto dipende dalla cerelità con cui il previsionale arriverà in consiglio e verrà approvato. Come tutti siamo preoccupati perché a fine mese voglio dire tutti hanno gli impegni da pagare però la categoria dei precari è molto più preoccupata perché manca anche la prospettiva perché le difficoltà si aggiungono a tutte le difficoltà dei precari voglio dire quindi del futuro che non c'è che non c'è stato e quindi a un disagio si somma pure le difficoltà future. I vostri stipendi dovrebbero essere pagati intorno al 27? Abbiamo la certezza che non ci sono i soldi né il 27 né il 30. Qualche garanzia sui tempi in cui verranno pagati gli stipendi? Io attualmente non ho sentito da nessuno e dipende quello che mi hanno detto poco fa alcuni colleghi della ragioneria appena approvano il bilancio possono avere gli acconti e quindi si provvederà a pagare però è tutto legato all'approvazione del bilancio.